Girano delle voci nell'internet che dicono che il famoso cantautore italiano Gianni Morandi mangi il materiale di rifiuto eliminato dall'intestino delle altre persone. Quando pesti una cacca non si dice che porta fortuna, ma che porta Gianni Morandi. I complottisti dicono che a causare l'intossicazione alimentare di Gubbio ci sia dietro lui. Il cantautore, quando mangia, al posto del tovagliolo, usa il pannolone. Sigmund Freud, nel libro L'interpretazione dei sogni, spiega che se ti appaiono le mani di Gianni Morandi nel sonno entro 47 ore te la farai nei calzoni. Gianni Morandi si è offerto volontario per il film Il Centipede Umano, a patto che fosse l'ultimo della fila. Le nonne, quando un bambino mangia tanto, non dicono più hai il verme solitario, ma hai il Gianni Morandi. Feci non è la prima persona singolare indicativo passato del moto di fare, ma il pasto di Gianni Morandi. Seguitemi per altri video di merda.